Dov'è per buttare giù la vecchia scuola e per su la neva assenta del liceo dell'arte del design Giuseppe Sora Perra. Un leggo storico per la comunanza di Fascia è che il leggo che si è formato anche artigiani e altri artisti dell'Unzac, anche internazionali. E' neudere ufficialmente a re Lurieras con una piccola cerimonia l'era all'assessora provinciale Mauro Gilmozzi, appede alla sorastanta Mirella Florian e ai rappresentanti dell'amministrazione Sadefascia, vide dalla procuradora Elena Testor. L'edificio verrà completamente rifatto secondo le più moderne tecnologie, richiamandoci però anche architettonicamente agli aspetti che legano questo edificio con il territorio, quindi il legno, la pietra, anche le soluzioni sono molto belle, molto piacevoli. In fondo lavorare e studiare in un bel edificio è un po' più facile. La storia della scuola d'Ert scomincia da K-70 la vainante a ricordare la sorastante, che per l'occasione le ha inviato i bici della Prumes, un augurio a ciò che i possi portare a termine i percorsi di studi a Stella Neves Clash. La procuradora ha ricordato la valuta dell'istituto, tanto per quel che è stato il passato di Fascia, che per quel che verrà sia da venire. Penso che non sia un investimento che vede al futuro e anche a crescere, perché è un'internalizzazione dell'arte, ma è un stravardamento di essere laddini, e anche la nostra cultura e le nostre tradizioni. E quindi è ben fatto che si vede in un'altra scuola. La Neva a scuola l'ha rapposto tra 280 studenti, con una palestra, garage, biblioteca, dode e saulati e 17 laboratori. L'ha una certificazione LID Gold per le sparagni energetiche. L'istituto è moderno che non ve la desmentiera sia riuscita. L'istituto è vero che la scuola adesso, i licei di sono della scuola laddina, li chiamano gente perché ha un progetto del Schelsky College, che è dalla giaccia, e dunque li chiamano gente da fuori. Però io credo che noi chiamano essere buoni di mantenere proprio la nostra identità. E credo che, dato che abbiamo la fortuna di avere docenti, che sono stati da tutti studenti in questa scuola, è buono di mantenere proprio una continuità.